Amici di Girovagando in Trentino siamo sul Monte Celva a pochi passi dalla città di Trento in un ambiente di mezza montagna di straordinaria bellezza ed importanza storica con Maurizio Fernetti siamo dunque sul sentiero SAT 419 e qui Maurizio vediamo innanzitutto la composizione anche forestale tipica diciamo della collina di Trento. Sì è il bosco tipico che circonda Trento quindi composto essenzialmente da carpino nero e da orniello quindi frassino minore ci sono anche diversi pini silvestri e pini neri che sono oggetto proprio di una riforestazione che è seguita alla deforestazione nel tempo della costruzione di questa fortezza. E così torniamo al tema della grande guerra anche per ricordare che attorno a Trento c'era un vero e proprio anello fortificato difensivo. Sì è quello che ha reso la città di Trento la città più fortificata e più protetta nel corso della prima guerra mondiale. Non dimentichiamo che Trento era una città di confine insomma il confine con l'Italia era a poche decine di chilometri. Quella che è stata denominata la fortezza di Trento è passata la storia per non aver mai sparato un colpo. Perché? Perché la linea del fronte non è mai venuta in effetti a contatto con questa formidabile linea difensiva che tra l'altro sarebbe stata difficilmente superabile. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di questi cunicoli e di queste linee trincerate. In modo particolare abbiamo raggiunto il sentiero dei Cento Scalini. Sì siamo proprio all'interno ormai del Monte Celva e tutte queste rocce antiche di 200 milioni di anni circa sono state scavate dal suo interno creando una grande varietà di alloggiamenti, postazioni di batterie per artiglieria, postazioni degli osservatori, delle postazioni per mitragliatrici, gallerie e addirittura pozzi di collegamento interni i quali venivano serviti appunto da questo sentiero dove ci troviamo noi. È la celebrità di questa montagna, il cosiddetto sentiero dei Cento Scalini. Qual era la sua funzione militare? La sua funzione militare era di mettere in collegamento queste due postazioni per mitragliatrici con la parte superiore della montagna dove c'era l'osservatorio del Celva Basso. Quindi praticamente l'osservatorio indicava lo scenario di guerra eventuale e sotto c'erano le bocche di fuoco. C'erano le bocche di fuoco, c'erano due postazioni per mitragliatrici pesanti e più sotto ancora, le abbiamo viste prima, le due batterie di artiglieria. Sulla cima che sta sopra di noi, qualche decina di metri sopra di noi, c'era un piccolo fortilizio con alloggiamenti che dovevano ospitare la guarnigione che occupava questa parte della montagna. Una curiosità, come venivano realizzate queste gallerie? Essenzialmente con tecniche minerarie. In queste gallerie è estremamente facile osservare questi fori cilindrici che penetrano all'interno della roccia, all'interno delle quali venivano messe inserite le cariche esplosive. Quindi si proseguiva, si scavava proprio con tecniche minerarie. Una cosa che mi preme raccontare, tutte queste grandiose opere di fortificazione all'interno di questa montagna sono state realizzate su progetto del genio militare austro-ungarico e realizzate parzialmente da militari dell'esercito ma anche da prisionieri di guerra. Non dimentichiamo che nel 15 l'Austria-Ungheria era già in guerra da oltre un anno sui fronti dell'Europa orientale e anche da operai civili militarizzati locali. Qualche uomo, sicuramente anche donne e bambini. E le cronache ci raccontano che sicuramente quassù c'erano almeno centinaia, centinaia di persone che hanno lavorato per diverso tempo. E' incredibile Maurizio come ci sia un paesaggio che sta in superficie, un paesaggio militare di superficie ma un paesaggio anche interno, fatto di queste gallerie, che è forse più esteso di quello esterno. E questo è un po' anche il discorso della sorpresa, ecco diciamo a sorpresa sotto i nostri piedi si apre un fortilizio straordinario da scoprire diciamo naturalmente con attenzione portando la frontalina e percorrendo con molta attenzione queste gallerie che sono in qualche tratto anche state recuperate e rese accessibili. E diciamo in un discreto quasi ottimo stato di conservazione perché lo ripetiamo qui non si è combattuto e abbiamo la fortuna di poter studiare ed ammirare, apprezzare questo scenario diciamo di tipo militare. Torniamo all'aspetto naturalistico, Monte Celva, siamo arrivati in cima, il tempo di percorrenza lo ricordiamo? Dal parcheggio, quello vicino al forte Roncogno, per salire all'osservatorio dove siamo noi ci mettiamo 20 minuti. Per salire poi alla cima c'è un piccolo tratto un po' più ripido che è messo in sicurezza con un piccolo cavetto metallico, un breve tratto quindi attrezzato ci si mettono altri 20 minuti, quindi insomma è un itinerario perfettamente alla portata di moltissimi escursionisti vicino alla città di Trento e con un grande contenuto diciamo naturalistico ma soprattutto anche culturale e storico. Assieme a Maurizio Fernetti noi andremo ancora alla scoperta di tante curiosità in ambito naturalistico ma adesso facciamo una sosta in ambito rurale.